Sì, sei seduto, sei seduto. Sì, sei seduto. Abbiamo dato il suo qua noi? Sì, sei seduto. Vogliamo fare un'altra parte? Non è un'altra parte. Se uno arriva a prendere un'altra parte, io non lo faccio. Sì, sei seduto. Sei seduto. Sì, sei seduto. Vieni, vieni, vieni qua, vieni qua. Ecco qua. Queste sono le condizioni in cui sta vivendo questo vacuo. Un appartamento abbandonato, da solo, in mezzo alla sporcizia, e scrementi. L'igiene a zero. Ci sono altre stanze qui, dove il cane giustamente si libera. Con degli stracci. Urla tutta la notte. perché, giustamente, è solo. Io, quando torno da lavorare, faccio quello che posso. Gli porto da mangiare. Questo è un cortile, che affaccia sempre in un condominio, dove il cane giustamente crea disagi, da fastidio. Ci sono i bambini che dormono. Le persone si possono lamentare. E quindi, non si sa la fine che può fare questo cane. Eccolo qua. Sta mangiando. È tranquillissima. È una cucciola di pitbull. Penso che ci avrà una cucciola. Tre anni, quattro anni ce le avrà. Ed è verita. A me non mi conosceva proprio. Non mi ha mai aggredito. Anzi, chiede attenzioni. Vuole uscire. Purtroppo, questa è la condizione. Questa è stata abbandonata così, eh. Checi, eh? Vini qua, vini qua. Se sei dovuto. Se sei dovuto. Se sei dovuto. Oh, hociò. Dammi un bacio. Dammi un bacio. Dammi un bacio. Eh? Dammi un bacio. Meti. Si cucciolo, si si bello. Si bello. Se sei dovuto. E io sono lei. D direi che succomare la società. Sao lei edirei. E io sono lei. love. I ommeno. Senti.